Signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qui tra i miei libri nel disordine e nel casino della mia libreria da me e dalla mia sciarpina dello SSV Ulm 1846. I miei soliti cimili calcistici, abbiate pazienza, ce li ho, ve li voglio far vedere. Sono vanitoso e che cazzo ci volete fare? Va bene. Cari signori, giusto oggi ho ricevuto da un amico che non sentivo da molto tempo, Simone è un ragazzo che conoscevo, che ho conosciuto molti anni fa, tramite il fansclub dei Manowar. È un bravissimo ragazzo, un ragazzo veramente in gamba. Lo conoscevamo con il soprannome di Colonnello Manowar perché era, se possibile, persino più fissato di me con Gioide Maio e Soji. Ma è una persona intelligente, un ragazzo in gamba che aveva visto il video sulla famosa storia delle picchiate a 90 gradi dell'ultimo Stuka con il cannone da 37 mm sui carriarmati russi. Ve lo ricorderete, spero. Il colonnello Manowar, che oggettivamente è un genio e che, se possibile, quando ci si mette è pure più cattivo di me, il che tutto dire, mi ha scritto un interessante post, un interessante messaggio privato, un interessante messaggio su Facebook, che penso sia il caso di farvi conoscere perché ci spiega molto bene il perché di quella famosa stronzata, il perché di quella cosa della picchiata a 90 gradi con i cannoni da 37 mm su un T-34 è una clamorosa stronzata. Ne riparliamo perché, come si suol dire, si spara sulla Croce Rossa per beccare più facilmente 50 punti. Ok? Allora, il famoso bombardiere in picchiata tedesco, che ricordiamo lo Stuka fu distribuito anche in circa 200 esemplari anche alla regia aeronautica, dicevo lo Stuka poteva effettuare queste famose picchiate a 90 gradi. Ed è una cosa che sostengono storici, ingegneri e tecnici che studiano i vecchi veicoli. La risposta è sì, effettivamente lo Stuka era l'unico aereo di tutto il conflitto mondiale che poteva sostenere una manovra di questo tipo, ovvero sia un vero e proprio tuffo a 90 gradi in verticale. Siccome una manovra del genere produce forti accelerazioni sul pilota, per ridurre al minimo il rischio di svenimento, la perdita di conoscenza e quindi in definitiva la perdita dell'equipaggio dello Stuka che era composto da pilota e dal mitragliere operatore radio, questo aereo, lo Stuka, fu dotato di un sistema automatico di richiamata. Tale manovra, tra l'altro, per essere effettuata in totale sicurezza doveva essere però eseguita nel seguente modo, quindi sturatevi l'orecchetta alle cime da rape, ok, stappatevi i padiglioni auricolari e state a sentire bene quello che vi dice il colonnello manovra, ok? Allora, state a sentire bene. Bisognava salire a 3.000-3.500 metri, ridurre al 50 o 30% della manetta, estrarre gli aerofreni, picchiare a 90 gradi, sganciare l'ordigno, richiamare a quota minima di sicurezza. In questo modo, in richiamata, veniva raggiunta la quota minima di sicurezza tale da permettere la risalita dell'aereo. Ma qui ci si mette la lezione di due cose assolutamente indiscutibili. La prima è la fisica, la seconda è Hans Ulrich Rudel. Allora, lasciando cadere un ordigno con un angolo a 90 gradi, se sotto c'è un obiettivo piccolo rispetto all'aereo, obiettivo che tra l'altro è mobile anche se si sposta di pochi metri al secondo, il tempo in cui l'ordigno raggiunge il suolo non è sufficiente a far sì che questo centri il bersaglio. Anzi, è più probabile che dentro al carro l'equipaggio sente il botto e, a parte qualche sovallo, gli dice chi è? Tovarish, chi è? Ok, chi ha bussato? Praticamente, Tovarish, chi bussa? Ok, va bene, torniamo seri. Allora, perché questo? Perché con una picchiata a 90 gradi l'ordigno cade perpendicolarmente al suolo senza avanzare verso il bersaglio, elemento a cui nessuno pensa evidentemente. C'è poi un fatto, sempre Rudel ci ha insegnato che piuttosto che colpire un singolo carro era preferibile agire contro una fila di carri in modo da fare danni a qualche carro sovietico della fila piuttosto che cercare di centrare un singolo obiettivo. Mi pare abbastanza logico. E poi, soprattutto, era meglio colpire obiettivi fissi e grandi quali postazioni, bunker, eccetera, o obiettivi mobili grandi quali navi e corazzate. E qui sappiamo bene che Rudel sapeva quello che faceva. Quando venne sviluppata la versione G, ovvero sia la cosiddetta Kanonenwögel, la cannoniera, per montare il cannone da 37 mm, vennero soppressi gli freni. Quindi, con tale versione, si colpivano i carri sparando, volando in orizzontale o effettuando manovre di discesa ad angoli piuttosto modesti. Ci arrivate? Perché se con la versione G uno pensava di colpire un carro effettuando una manovra di picchiata e poi sparare, a parte l'assenza di aerofreni, insomma, la velocità a cui era soggetto il velivolo in concomitanza con l'aggiunta di armamenti che ne incrementavano il peso, avrebbero causato uno stress strutturale tale che, aerodinamico quanto vuoi per fare le picchiate anche a 90 gradi, ti si staccavano simpaticamente le alucce e tu, pilota, con la fusoliera e l'operatore radiomitragliere dietro facevi la fine del kamikaze scavando una bella buca nel territorio della steppa russa dove poi dopo 70 anni ti vanno a ripescare i cercatori, i cercatori col metal detector ucraini. Vabbè, lasciamo stare, lasciamo stare, lasciamo stare. Allora, c'è un altro fatto. Lo Stuka, essendo comunque sia un bombardiere, aveva una caratteristica comune a tutti gli aerei che ricoprivano tale ruolo. La lentezza. E non è un caso se durante la battaglia d'Inghilterra Stuka e Enkel 111 venivano facilmente abbattuti da Hurricane e Spitfire. Man mano, insomma, in Russia man mano, i reparti dell'assalto al suolo tedeschi vennero dotati di aerei come il Focke-Wulf 190 e il Bf 109, proprio in sostituzione dello Stuka e dello Enkel HS 129, aereo di cui sono intenzionato a parlarvi. Allora, il Focke-Wulf 190 e il Bf 109 erano aerei che potava, che davano sicuramente molto più filo da torcere rispetto allo Stuka, dello Yak-3 o degli altri caccia. insomma, siamo sinceri, è tutto un altro paio di maniche affrontare un caccia Yak sotto i 3.000 metri con un Focke-Wulf sotto il culo rispetto ad uno Stuka. Il problema è che ricordarsi sempre una cosa. Certi tizi devono studiarsi un attimino meglio che cos'è una struttura aeronautica reale, le forze a cui viene sottoposta e i limiti strutturali relativi ai fattori di carico. Ve lo chiediamo io e ve lo chiediamo il colonnello Menowar. Prima di sparare puttanate, la picchiata a 90 gradi sul carro fermo, cioè, ancora, se ci penso mi incazzo, scusate, abbiate pazienza, ripeto, la picchiata in verticale a 90 gradi, a 90 gradi, su un carro armato che si muove, anche se di pochi metri al secondo, significa semplicemente scavare una bella buca nel suolo della Bielorussia e fornire ai cercatori di cimeli bellici ucraini di che portare a casa la pagnotta. Va bene? Quindi, cari signori, io e il beniamato Simone, il bravissimo Simone, il leggendario colonnello Menowar, vi ringraziamo per l'attenzione, vi ricordiamo sempre, tenete sempre presente quello che è la realtà, quelli che sono i fattori fisici, tecnici, aerodinamici, strutturali, di come si usa un aereo e di quello che è un campo di battaglia, prima di sparare prostitutate immonde. È rimasta leggendaria questa, ripeto, è un video, l'amico Simone mi ha, come dire, mandato questo, mi ha mandato questo messaggio pregandomi per fare, di fare chiarezza e io l'ho contento per volentieri, anche perché siamo sinceri. Non è che ci vorrebbe tanto a pensarci, il problema è sempre quello, si ragiona in base alla teoria, non si tiene mai conto della pratica e soprattutto ricordiamoci anche una cosa, io da quando ho aperto questo canale YouTube sono rimasto spaventato, non tanto dalle minacce perché con le minacce su YouTube sinceramente mi ci pulisco il culo, ok? Sono rimasto spaventato dall'analfabetismo funzionale di certe persone che non riescono fisicamente a rendersi conto delle castronerie che dicono, che non vogliono rendersi conto che dicono, di dire, cavolate, perché? Perché mi hanno detto che? Perché io so che. Insomma, voi credete, cioè, allora, certa gente, certa gente, veramente, mi sono accorto con orrore che non riesce a fare due più due e che vive in un mondo fatto di convinzioni campate in aria ma che vengono ritenute reali perché? Perché io so che sono vere. Dalle teorie del complotto all'atomica di Hitler di cui ho parlato recentemente, fino alla picchiata a 90 gradi verticale sul carro armato russo in movimento, cioè, ragazzi, io dico semplicemente semplicemente, signori, 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 veramente, 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 imparate a far girare un attimino i neuroni, imparate un attimino a collegare la testa al culo, imparate un attimino che non sempre è tutto vero quello a cui credete, ci volete pensare un attimino? Io stesso, cioè, lo dico anche io, tante volte ho cambiato le mie convinzioni, cioè, ero convinto di tante cose, poi dopo mi sono reso conto che tante mie convinzioni erano sbagliate. Vi costa tanto ammetterlo anche voi altri qualche volta o no? No. Sempre le solite storie. La superiorità tecnologica dei tedeschi, i tedeschi erano avanti, la picchiata di 90 gradi dello stuca, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, signori, io vi dico semplicemente una cosa, pensate un attimino a quello che scrivete prima di fare brutte figure, per favore, tutto qua. Quindi, cari signori, io, sottoscritto Metal Mike, ottimo Massimo, Metallaro, per grazia di Dio e volontà della nazione e l'amico colonnello Manowar, vi salutiamo, vi diciamo grazie per l'attenzione, grazie per averci ascoltato, sempre e comunque Brothers of Metal. E veramente pensate, come sempre, a quello che dite prima di fare brutte figure e di dire cazzate. Tutto qua. Signori, io e il colonnello Manowar vi salutiamo, onore, gloria, sempiterna agli dèi e ai guerrieri del metallo e arrivederci al mio prossimo video. Grazie ancora.